video 105 oggi parliamo di un altro marchio francese ormai purtroppo scomparso parliamo della cg shop cheslin tutti noi conosciamo le vetture in vetoresina ma se dobbiamo andare alla fonte di chi è stato tra i primi a ideare questa tipologia di carrozzeria dobbiamo risalire agli anni 50 e andare in francia sono infatti proprio shop cheslin ad iniziare questa tipologia di carrozzeria come sempre per risparmiare peso sulle proprie vetture o meglio non sulle proprie vetture ma sulle vetture create per altri marchi uno dei marchi è proprio la famosa d'oici bonnet d'oici bonnet purtroppo ad un certo punto non vanno più d'accordo per cui bonnet continua la sua strada e creerà la famosa di jet di cui ho già fatto n video deutsch invece creerà la famosa cd però il marchio più importante che da lavoro alla cg è l'alpine jan re de lè se voi seguite il mio video sulle alpine inizia proprio in questo periodo a correre in auto per pubblicizzare i mezzi della renault inizia con la cg una collaborazione per creare le carrozzerie una collaborazione tra l'altro molto molto lunga fino a che però anche red lè capisce che può costruirsela in casa e quindi i maghi della vettoresina shop cheslin rimangono senza un grande cliente nell'ambito delle corse si dà all'inizio a quello che è uno dei periodi migliori per le corse su strada quindi i rally per capirci per cui avendo perso il cliente maggiore e più importante shop e cheslin decidono di crearsi una propria vettura da prima della seconda guerra mondiale loro erano principalmente dei carrozzieri quando un cliente ti abbandona cerchi di dimostrargli che non avevi bisogno di lui per cui l'obiettivo principale è quello di creare una vettura per battere le alpine da chi si va si va ovviamente ad utilizzare una meccanica alternativa a quella che era quella della renault ma si va a questo punto alla simca altro grandissimo marchio francese simca ha sempre risolvito macchine un po per tutti per cui non abbiamo meccaniche molto molto grosse però con la simca 1000 con la simca 12003 abbiamo comunque delle meccaniche abbastanza performanti l'unica necessità come sempre qual è è quella di ridurre il peso alle vetture per cui la carrozzeria di shop e cheslin è perfetta l'unica cosa che manca a tutti gli effetti è avere un telaio l'esperienza con le renault aveva insegnato che è una vettura abbastanza vincente è una vettura con un monotrave e un motore a sbalzo al posteriore e così loro creano quindi un telaio così fatto quindi carrozzeria vettoresina leggerissima motore a sbalzo prima il 1000 poi il 1200 quello della simca 1200 coupé macchina stupenda e poi successivamente anche il 1300 quindi la vettura è pronta a fine anni 60 corre per 45 anni poi vedremo subito dopo anche quello che è il progetto di un prototipo mc dove verranno montati motori un bel po più evoluti ma sarà proprio un'altra macchina perché avrà un motore addirittura centrale comunque tornando la nostra cg a inizioni 70 il gruppo chrysler proprietario di simca e anche di matra ha da lanciare una nuova sportiva che è appunto una simca matra baghera e a quel punto quindi non c'è più spazio per gestire in termini economici e quindi in termini di sviluppo una evoluzione successiva di quella che la cg e purtroppo i nostri shop chrysler chiudono i battenti mi pare nel 74 quindi a tutti gli effetti è una storia bella perché ha dato origine a tutte le vetture leggere che ci sono soprattutto in francia però purtroppo come sempre la vita dell'artigiano è fantastica per le invenzioni ma è sempre difficile per quanto concerne lo sviluppo e l'evoluzione in mancanza di un introito e quindi di un finanziamento reale di un'azienda grande come può essere un grande brand allora premesso che già le cg 1000 1200 s e 1300 avevano una prestazione abbastanza buona per il peso contenuto delle stesse vetture perché parliamo di circa 650 kg di vettura e una versione corsa era arrivata a circa 550 kg sempre alla ricerca della leggerezza a fine anni 60 69 nasce la 548 cos'è la 548 allora il numero identifica il peso della vettura cosa hanno costruito in cg praticamente hanno pensato che al telaio già utilizzato quindi monotrave centrale con i due montanti laterali dove poggia l'abitacolo e un supporto motore praticamente si taglia la parte del supporto motore si modifica quindi il telaio il motore viene proprio montato in maniera differente ma sempre a sbalzo si cerca di minimizzare il peso in tutti i suoi aspetti tant'è che appunto dai 650 kg scarsi si arriva a 548 insomma diciamo 550 kg quindi come sempre leggerezza obiettivo ovviamente è superare sempre l'alpine ma a tutti gli effetti nelle salite si può anche pensare a battere anche le abart perché poi la categoria era un po' la stessa sulla 548 poi viene anche provato un compressore volumetico scusate non mi veniva il nome un costantin quindi aumenta anche la cavalleria a disposizione di questa macchina tant'è che poi nel 71 72 simica in accordo ovviamente sempre con chrysler france perché erano sempre loro che ovviamente comandavano mettono l'esposizione dei clienti privati un come si dice un trofeo una coppa quindi si fa una cap dedicata all'ecg a questo punto arriviamo al proto mc si potrebbe dire e qui magari i puristi mi criticheranno che la prima macchina da corsa per i rally tutti dicono essere stata la lancia stratos in realtà non è proprio proprio così la prima vettura da rally costruita ad hoc non è la lancia stratos bensì la simca proto mc perché è stata costruita apposta per andare a vincere nei rally perché le altre auto che correvano nei rally quindi le 911 le fulvia le stesse alpine erano auto uguali a quelle di serie ma preparate invece la simca proto cg nasce completamente diversa dalla cg iniziale in quanto sebbene la crozzeria le assomigli il telaio cambia radicalmente si passa da motore a sbalzo ad un motore centrale quindi fisicamente proprio il telaio della vettura quindi la struttura della macchina è completamente diversa quindi è proprio un'altra vettura quindi il telaio è più lungo perché appunto il motore diventa centrale cambia anche la larghezza della vettura che è qualche centimetro più larga insomma di fatto è una vettura che visivamente sembra simile ma in realtà di uguale c'è solo un po il muso e in parte l'abitacolo la cosa però positiva è che cambia radicalmente anche la meccanica perché si passa da appunto il 1000 il 1200 s il 1300 a ad iniziare con un 1800 quindi proprio l'obiettivo è completamente diverso rispetto a quello precedente di far evolvere qualcosa di stradale nasce proprio una vettura per combattere l'alpine 1008 un'altra particolarità di questa bellissima vettura è che è nata a tutti gli effetti in collaborazione con la matra la matra al tempo aveva stava vincendo aleman nel mondo dei prototipi e del mondiale sport quindi il prototipo stesso della mc viene soprannominato ms 18 perché ms sono tutti i prototipi appunto della matra tant'è che il retrotreno è proprio quello della ms 6 e 30 la proto evolve in tre forme di fatto la prima quella indicata in precedenza simile alla cg la seconda è una barchetta anche la cg avrà corso come barchetta principalmente con la 548 la terza la famosa camioncino altro non è che una barchetta con l'abitacolo coperto da un hardtop è decisamente brutta un incrocio tra un pick up e non saprei neanche io cosa però di fatto è quella più performante ora pensiamo un attimo alla meccanica allora il motore montato ovviamente era sempre d'origine chrysler tanto per cambiare quindi il famoso chrysler 180 allora sulla proto appunto posizione centrale viene montato sia il 2100 in realtà il 2002 scarso che l'ultima versione sulla camionette il 2003 cioè partiamo da 170 cavalli circa a oltre 220 che se li pensiamo sopra una vettura di la precedente era 548 qui siamo sui 670 insomma sui massimo 700 chili capite che 220 cavalli su 700 chili effettivamente le performance ci sono assolutamente tutte poi col bilanciamento dei pesi ottimale in quanto motore centrale direi che è una realizzazione ottima veniamo ora finalmente i risultati sportivi allora la vettura è stata pensata ad inizio anni 70 anzi per la precisione ad inizio del 1970 e a tutti gli effetti nella stagione 70 quindi ha corso veramente poco ma la cosa più importante e declatante è che a fine stagione al criterio de che venne il pilota fantastico pilota la russe vince la manifestazione con la vettura iscritta come gruppo 5 insieme a lui correva anche bernard fiorentino che purtroppo ha dovuto lasciare i campi di gara per un guasto il 71 inizia nel migliore dei modi perché fiorentino vince la prima manifestazione che è il rally del route del nord dove di fatto vengono battute le alpine in testa delle quali c'era darnish l'apoteosi se così si può dire ce l'abbiamo al rally del monte bianco dove di fatto nicolà e darnish perdono e bernard fiorentino vince praticamente tutte le tappe della gara fuorché l'ultima quindi a quel punto a tutti gli effetti la vettura è ben ben preparata durante l'anno quindi il 71 le vittorie sono diverse non vince il titolo perché purtroppo si frattura una gamba non può partecipare ad una manifestazione e così purtroppo perde il titolo e vince giampier nicolà il 72 invece non si rivelerà una stagione molto molto vincente con diversi problemi meccanici purtroppo quindi tutto viene posticipato al 1973 anche perché senza che loro lo sapessero diventa di fatto l'ultima stagione per vincere perché poi appunto nel 74 la cg abbandona arriva così il canto del cigno 1973 contro le ford gt 70 e soprattutto le lancia stratos bene arriviamo a rond chenevall e chi vince vince bernard fiorentino quindi la camionette utilizzata nel 73 risulta essere vincente anche contro dei mostri sacri quali per esempio la lancia stratos alla fine dell'anno insomma su 30 erotti gare a cui ha partecipato le vittorie sono state ben 22 appunto come detto prima il canto del cigno dopo infatti l'anno successivo simca e soprattutto quasi alfans abbandona il progetto per spingere la matra baghera quindi la storia della cg finisce in questo modo spero vi sia piaciuto l'articolo purtroppo le immagini sono poche ma per il discorso del copyright posso pubblicare solo quelle che sono di fatto mie o del mio amico sergio quindi non ne ho altre perché non si possono riprodurre quello che vi consiglio è un bel libro invece in francese ma molto molto interessante bene se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale auto epoca nord est mettete se volete essere aggiornati su ogni nuovo video pubblicato anche il simbolo della campanellina e se vi è veramente piaciuto anche un bel mi piace ciao e grazie a tutti